Come installare le piastrelle? Farsi una guida autocostruita e abbiamo qui il maestro delle piastrelle. Togliere il terreno superfluo Noi sommi Non fornire le piastrelle la piastrelle , si umrere il terreno e resta di passare il terreno Nelte un attuale Le piastrelle Livellare bene la superficie. Installare la vostra piastrella. Ecco a voi il nostro lavoro. Sopra vi lascio anche il link per vedere se volete sapere come si semina il prato. Grazie per la visione e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale.